Senti Paiolo, farti i complimenti perché sei riuscito a far andare via Leo nel modo più educato, con stile, con stile. Poi soprattutto ho pensato una cosa. Sei stato un grande in questi mesi a macinarlo come carne tritta. Aspettare che lui morisse in studio, infartasse durante una serata, non era una cosa allegra, no? Poi avervi imbarazzato gli ascoltatori. Invece così, proprio uscito di scena da signore, come sta andando? È andato? Sì, sì, è andato via. Ma sei stato veramente macchiavellico, Marco, ti faccio i miei complimenti. Quando ce la farai anche con Ringo? Sto scherzando, eh. Ma attenzione, ieri abbiamo beccato una nuova vittima dello zoo. Questo l'abbiamo soprannominato Belvaman, perché parte lento. Abbiamo usato la voce del famoso elettricista di Fabio, Davide Fregoni. Che lo salutiamo perché non è stato tanto bene, ha avuto dei problemi ai reni, gli mandiamo un grosso abbraccio. È casa tua, è peggio di Superman. È sempre con me. Ma sentite quest'uomo, parte molto soft e a un certo punto si trasforma in Belvaman. Lo Zoo di 105 presenta Faccia a faccia. Pronto? Pronto? Ma chi cazzo sei? Ahia. Non ho capito, scusa. Ma chi cazzo sei? Sono m*****o io. Ma te sei uberiaco. Pronto? Che, te hai preso delle pastiglie delle quali non hai il controllo ed è meglio che ti vai a ricoverare da qualche parte. Ma hai rossi coglioni! Non farmi perdere tempo che sto lavorando! Testa di c*****o! Ma chi sei, scusa? Non ho capito io. Sono Davide. Davide chi? Sono Davide. Davide chi, scusa? Davide chi? Io sono c*****o. Non ho capito con chi sto parlando. Ma vai a c*****o, pirlone! Sei Davide chi? Scusa, non ho capito. Ciucce a minuccello! Ahia. Ma scusa un attimo, non ho capito chi sei. Io sono qui dal notario, non posso alzare la voce. Chi c*****o sei, brutto deficiente? Ma vai a c*****o, va, pirla! Ma chi sei? Spiegami, dammi il cognome. Dimmi dove sei che vengo a prenderti, pezzo di m*****o. Ma che c*****o vuoi? Oh, rompi i c*****o! Rompi i c*****o di chi? Ma chi sei? Pezzo di c*****o! Chi sei? Non rompere il c*****o la gente che sta lavorando, testa di minchia! Tu lavori, ma chi sei? Non sai dire chi sono io, verme schifoso. Ed è meglio che andiamo a fare in c*****o. Fatti vedere, pezzo di bastardo, non vuoi vedere chi sei. Ma chi c*****o sei? Chi sei tu per avermi telefonato, chi sei? Ma chi c*****o sei? Chi c*****o sei tu? Pronto? Chi c*****o sei tu, brutto verme schifoso? Sono Davide, sono Davide. Davide chi? Dammi il cognome brutto, essere schifoso che devi morire. Pezzo di m*****o, fatti vedere. Ma va a c*****o, va a tirla! E spiega chi sei, scemo di m*****o. Ciuccia minuciello! Puttana maledetta, dimmi che cognome hai. Ciuccia minuciello! Vieni qua che te lo taglio via questo pezzo di bastardo di... Dimmi chi sei, brutto figlio di p*****a. C*****o di c*****o! Dimmi chi sei. C*****o di c*****o! Dimmi chi sei. Sono Davide. Ancora, ignorante. Dimmi chi sei. Ma chi c*****o sei? Che c*****o sei tu? Ma hai chiamato tu, brutto schifoso di m*****o. Con il numero privato. Chifoso! Ma hai chiamato quel numero privato. Chi sei? Ma te sei uberiaco. Io? Ma vai a c*****o, brutto ignorante. C*****o che vengo addosso in macchina. Dimmi chi sei, brutto schifoso. Sono Davide. Ancora, cognome. Sono Davide. C'è il cognome. Sono Davide. Figlio di c*****o. C*****o di c*****o. Sono Davide. Figlio di c*****o. Figlio di c*****o. Ma vai a c*****o, pirlone! C*****o di c*****o. Dimmi come ti chiami. Non c'è minuccello! Dimmi come ti chiami, pezzo di m*****o. Ciao! Pezzo di m*****o, mi devi dire come ti chiami, che vengo a prendersi, che uccido schifoso. Ciao! Anche voi ragazzi, chiamare Donadoni dopo la partita?